buongiorno a tutti noi siamo gli ultimi saranno e questa è la rubrica che si chiama scintille siamo arrivati ormai alla quinta puntata mi sembra che è la quinta puntata scintille una rubrica in cui noi ospitiamo attivisti persone coinvolte in genere nella nella conduzione di laboratori creativi teatrali ma non solo all'interno delle carceri oggi abbiamo più ospiti oggi stiamo facendo una puntata un poco più affollata abbiamo federica palo e francesca palo che si sono disposte le vedete sono in diagonale almeno io qua sullo schermo le vedo in diagonale che poi ci spiegheranno ma hanno un laboratorio teatrale nel carcere di salerno che si chiama sto nervosa è tutto tutto al femminile tutto un laboratorio tutto femmina e poi abbiamo stefania guarracino che è quadrice con rossana castiglia del libro io sono innocente giusto stefania sì giustissimo giusto giusto sono stato studiato bene cominciamo c'è 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 raffaele bruno in occulto ascolto forse interverrà forse 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 no ma questo è il brivido diciamo che che ci concediamo in questa in questa puntata io direi di cominciare con le sorelle palo che dite parlate parlate parlateci un poco spiegateci quello che che fate a salerno allora io inizierei poi magari lascio la parola a francesca inizierei con una lettura perché questo testo diciamo che sto per leggervi è stato prodotto proprio diciamo in questi giorni da una delle ragazze del laboratorio perché in pratica noi adesso stiamo cercando tutto permettendo di produrre un testo per maggio dell'anno prossimo sperando di portarlo in scena con le ragazze del laboratorio e prendendo spunto tutto da cose scritte da loro in effetti quindi vi leggo questo breve insomma questa breve riflessione diciamo così vorrei sentirmi come un aquilone tutto colorato in un cielo infinito azzurro mi sento libera di volare con un bimbo che mi porta correndo fra i prati pieni di tulipani e margherite e volo tra nuvole e gabbiani felice e spensierata sento anche il calore dei raggi del sole e il profumo dell'estate sento la mamma che sta preparando un buon pranzo è un odore dilizioso e il papà fischiettando la aiuta ecco queste sono solo alcune diciamo delle immagini che stanno uscendo da questi esercizi diciamo che di volta in volta facciamo e che speriamo che tutte insieme a un certo punto andranno a comporre il nostro spettacolo originale diciamo per quello che riguarda insomma quel laboratorio quando abbiamo iniziato eccetera io lascerei volentieri la parola a Francesca così ce lo racconta anche dal suo punto di vista sì allora noi che cosa facciamo noi una volta a settimana appunto andiamo a Salerno al carcere di Forni e in realtà a me piace dire questo nel senso sì noi facciamo un laboratorio teatrale ma quello che cerchiamo di portare sono delle emozioni no un sorriso un senso di evasione permettetemi insomma questo termine da quella che è la vita poi in carcere quindi sono due ore che passiamo insieme a queste ragazze che dove c'è uno scambio veramente molto forte cioè noi riusciamo ad entrare in un'empatia siamo riusciti in un anno e mezzo che correggimi Federica se sbaglio più o meno un anno e mezzo che facciamo questo laboratorio dove l'empatia sta diventando veramente qualcosa che ci permette di entrare e poi è difficile abbattere un po' questo muro che ti arriva davanti però fortunatamente ci stiamo riuscendo anche leggendo quello che loro scrivono in questi esercizi che poi alla fine gli vengono dati che vanno al di là del fare uno spettacolo ecco quello che si cerca di fare di lavorare sulle emozioni e di aprire un altro mondo che non sia quello prettamente carcerario che va più su una sofferenza ma di cercare un senso di libertà emotiva che ti porta poi ad avere delle emozioni quindi questo cerchiamo di fare nel insomma nel miglior modo possibile poi vabbè ci sono anche momenti in cui ci divertiamo in cui cerchiamo anche di fare non lo so zumba esercizi vari per dargli anche un senso di movimento perché ovviamente capirete bene che stare una giornata in una cella non è insomma anche questo aiuta anche questo movimento da da una mano diciamo così non so federica vuoi aggiungere qualcosa prego fede se vuoi aggiungere qualcosa sì va bene il senso che più o meno quello che diceva franci e tutto insomma quello che noi facciamo da più o meno un anno e mezzo a questa parte e ovviamente dato che salerno è una casa circondariale quindi è un posto in cui in effetti detenuti in teoria non dovrebbero stazionare tantissimo e questo vale anche per le donne quindi in realtà diciamo che queste signore prima di tutto questo erano state diciamo lasciate un po a loro stesse nel senso che essendo una casa circondariale non sempre si è vista la diciamo la l'esigenza di fargli fare attività varie proprio perché essendo persone che in teoria dovevano rimanere lì per pochissimo tempo insomma magari si è pensato ok lo andranno a fare altrove insomma invece con la direzione che è cambiata da un po e che quindi vede la dottoressa rita romano che io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare perché veramente è una persona illuminata e c'è stato dato l'opportunità insomma di intraprendere questo percorso quindi in realtà questo è uno scambio come diceva franci non siamo solo noi insomma da andare lì a portare cose ma soprattutto questa cosa ha cambiato proprio anche noi nel nostro modo di rapportarci al mondo esterno nel nostro modo di rapportarci proprio alle persone in generale perché vedi molto di più la possibilità di sbagliare che è comune a tutti noi e da qui da qui nessuno è esente cioè nel senso che non è che quelle signore che stanno lì sono diverse da te o da chiunque altro ma potresti essere tranquillamente tu perché sono persone che hanno figli a casa mariti fidanzati fidanzate eccetera eccetera quindi ci sarebbero diciamo tante cose da dire su come vissuta la vita in carcere anche per esempio dal punto di vista dell'omosessualità dal punto di vista della maternità negata perché questa è una cosa che a una donna e per una donna è una cosa molto molto difficile da vivere all'interno del carcere infatti questo è uno dei temi che noi riusciamo a trattare con grandissima difficoltà anche confrontandomi con altre persone che fanno la stessa cosa diciamo che faccio io con le donne effettivamente questo tema della maternità è una cosa molto molto delicata che veramente è difficile da affrontare con qualsiasi forma di arte di dialogo perché è una cosa troppo forte cioè nel momento in cui non si può espletare questa funzione per le persone che hanno figli perché ci sono anche alcune che non ce l'hanno quindi non è però per quelle che ce l'hanno o magari hanno addirittura delle situazioni molto particolari in cui magari i figli sono stati dati in affidamento addirittura in adozione è una cosa veramente molto molto difficile quindi ripeto anche solo leggere un testo teatrale che parla di questo ma ovviamente si riferisce a un personaggio e non a se stessi può creare un problema nel senso che non non si riesce proprio a fare quindi questa cosa devo dire che è uno dei compiti che io mi sono data in questo percorso non so in che modo non so quando però diciamo è una cosa che piano piano di cui vorrei iniziare a insomma che vorrei iniziare a prendere veramente molto da lontano molto da lontano anche perché noi comunque siamo seguite da una psicologa da un'educatrice quindi è un percorso che viene fatto comunque parallelamente anche con altre figure che giustamente lavorano con queste signore con queste ragazze quotidianamente quindi ci confrontiamo anche con loro periodicamente decidiamo qual è la strada migliore da seguire piuttosto che un'altra insomma è un lavoro molto molto secondo me bello e assolutamente arricchente sia per chi diciamo ne usufruisce da utente e sia perché lo fa quindi si pone in qualche modo come diciamo guida ma la cosa bella sinceramente è che nel momento in cui stiamo tutte quante insieme in quella stanza cioè non ci sono categorie non ci sono ruoli non ci non c'è cioè i ruoli ci sono però non c'è un diciamo una troppo una catalogazione ecco delle persone quindi non c'è un dentro e un fuori ma semplicemente ci sono delle donne perché siamo tutte donne tutte insieme infatti a volte ci capita di parlare anche di cose che sono prettamente femminili e ovviamente nel momento in cui incominciano questo tipo di diciamo di dialoghi si va a finire a qualsiasi cosa cioè tipo ti piace quello piuttosto che quell'altro quello è più bello di quell'altro c'è un mal di pancia c'è un mal di schiena vabbè tutte queste cose qua e quindi alla fine insomma ci troviamo tutte insieme accomunate semplicemente dal desiderio di fare qualcosa di bello insieme e dall'essere tutte donne con gli stessi sentimenti con le stesse emozioni e con lo stesso senso diciamo della vita anche perché queste sono diciamo le persone che vivono questo sdoppiamento perché secondo me uno sdoppiamento cioè hanno il bianco e il nero sulla faccia insieme nel senso che sono delle espressioni molto particolari che persone che non vivono il proprio nero fino in fondo non hanno certo non hanno come se perdessero un punto medio diciamo esatto cioè queste sono le persone che hanno avuto questo tipo di esperienza secondo me hanno sul volto diciamo il tutto il nero dell'essere andati proprio a fondo nel baratro ma non solo della giustizia ma proprio nel baratro di se stessi cioè di quello che tu di come essere umano puoi fare di più brutto in assoluto in alcuni casi soprattutto e questo paradossalmente porta fuori il bianco diciamo benissimo perché poi cioè si confrontano con l'arte no che è una cosa altissima quindi c'è questa schizofrenia che però le rende secondo me mostruosamente interessanti secondo me proprio di questo su questo contrasto possiamo dare una scrista a Stefania Guarracino esatto nel libro io sono innocente si tratta correggimi sempre se sbaglio Stefania si tratta ovviamente dell'ambiente carcerario e c'è molto forte il tema del bambino interiore ferito in questo senso in qualche modo c'entra quello che stava dicendo Federico cioè del nero profondo che poi porta a emergere anche quel bianco di innocenza quella cosa che forse in modo così puro è difficile da far venire fuori a una persona normale ma normale per circostanze e per contesto non per altro allora Ale diciamo che il bambino interiore è presente in ognuno di noi l'idea è quello di raccontare storie facendo incontrare ad ognuno il proprio bambino interiore perché a mio avviso anche è stato scritto tanto ci sono tanti libri tutti vogliono scrivere ma nessuno vuole leggere questa è un'altra cosa quindi inizialmente io io sono una maestra di scuola elementare sono una docente di sostegno nasco come pedagogista e counselor ma fondamentalmente per me più che un libro io lo chiamo uno strumento questo vuole essere uno strumento forse anche un po' ambizioso non lo so ma sai sognatori io sono una che sogna costruisco sono sogni in ogni momento vado sempre dietro le mie paure perché dico sempre che dietro le mie paure come dirvi c'è dio c'è dio perché c'è la luce c'è quella stefania che ha quei sogni di bambina che si ritrova che che va ad incontrare poi tante altre bambine tanti altri bambini e questo libro vuole essere uno strumento di perdono lavorando sul proprio perdono interiore perché in realtà non so se se mi vedete più perché mi sono ok in realtà partiamo dal bambino interiore ma come idea di fare un esercizio sul perdono e quando siamo sono arrivata lì perché in realtà io devo ringraziare rossana castiglia che un giorno io avevo intervistata nella mia rubrica essendo vicepresidente di un'associazione nel periodo del lockdown mi sono detta come devo fare a stare vicino alle persone a stare vicino a chi amo è venuta fuori questa rubrica su facebook che la facevo in maniera giornaliera questa donna è arrivata nella mia vita io l'ho intervistata perché lei fa la scrittrice sul serio a differenza mia che ti ho detto io sono semplicemente una che cerca di dare qualche strumento d'amore e l'ascolto con molta attenzione e parliamo del bambino interiore io le dico ma sai quanto sarebbe bello andare lì dove proprio si deve partire per perdonarsi lì proprio dove si è scavato il fosso si sta dentro e lì poi andare a parlare a questi bambini interiori lei quel momento non mi disse nulla dopo due giorni molto anzi nel libro lo dirà pure io lo scopro per perché ho letto questa parte di lei non avrebbe mai immaginato di avere questa mia disponibilità immediata perché non mi conosceva perché in realtà chi mi conosce sa che per me la collaborazione al femminile non non a caso è venuto fuori il premio della sorrellanza che porto avanti come una creatura da un paio d'anni e for e quindi immediatamente le dico ma io sono a disposizione facciamo questa esperienza e questa esperienza poi in realtà volevo dare qualcosa ma grazie a federica che mi è stata anche vicino in quei laboratori io ho ricevuto tanto e ti devo dire anche vi devo dire che a un certo punto come diceva prima federica non c'è un dentro e un fuori c'è un tutt'uno e in alcuni momenti ho mantenuto l'emozione con molta difficoltà avrei pianto con loro con quelle bambine con quelle meravigliose donne che in quel momento si stavano spogliando per raccontarsi ad una donna che avevano appena visto e lo hanno fatto veramente in una maniera ammirevole dove a un certo punto ho compreso che realmente la prigione a volte è proprio qualcosa che sta dentro non è qualcosa è la prigionia interiore che porta poi ad andare in quel baratro è stata un'esperienza straordinaria anche perché sono le storie solo le storie ci possono insegnare qualcosa non so se condividete ragazze assolutamente davvero io se mi posso permettere volevo solo dire un'altra cosa quello che mi ha colpito di più no rispetto a questa esperienza di laboratorio e di come si può entrare talmente in empatia con le persone è stato durante il lockdown cioè noi ci siamo trovati a un certo punto a doverci così da un momento all'altro di staccare e io personalmente per l'esperienza vissuta con queste donne che io ritengo donne coraggiosissime devo dire la verità veramente coraggiose io ho sentito la mancanza di queste donne durante tutto il lockdown sentivo l'esigenza di sapere come stessero di sapere di avere non so qualche notizia e quando poi siamo tornati no accolte anche io non mi aspettavo di essere accolta in questo modo perché forse non mi sono neanche mai resa conto di quanto ci scambiamo realmente loro a me danno tantissimo ma poi quando ci sei dentro non ti rendi conto di quanto tu dai l'idea di sapere che anche noi eravamo poi in fin dei conti mancate a queste a queste donne è stato uno scambio meraviglioso veramente meraviglioso quindi è importante farlo è importante non dimenticare chi viene diciamo tra virgolette messo ai margini perché questo margine non esiste non esiste non c'è secondo me è così molto bello quello che appena detto è vero perché c'è un'autenticità dei rapporti non c'è più tempo per avere le maschere e queste donne te lo insegnano alla fine e quindi ti fanno anche scoprire la forza e la potenza della relazione quella autentica che oggi tanto mancano c'è una cosa che diciamo andando nelle carceri ci rendiamo spesso conto che in realtà c'è una tale esigenza comunicativa un tale bisogno comunicativo che diventa in realtà tutto molto più semplice diventa quel tipo di contesto è un contesto in cui può essere molto molto più facile in cui può essere più facile essere limpidi più facile essere chiari perché è come se fosse un altro mondo in qualche in qualche modo nel momento in cui almeno noi entriamo lì e siamo siamo un po super partes perché poi voglio dire ci andiamo a inserire in una dinamica che è una dinamica altra dal conflitto che poi spesso alla fine conflitto non è tra il detentore e il detenuto ci mettiamo ci mettiamo ci inseriamo in quello spazio cuscinetto la voglia di avere di avere a che fare la voglia di parlare ma anche di confrontarsi come diceva prima federica sulla cosa piccola sulla cosa leggera è molto più forte della della voglia che c'è fuori appunto volendo continuare a parlare dentro l'emozione più grande infatti è stato dar voce a queste donne le quali non si sono nascoste neanche la loro identità sono state bellissime nel donarsi lo hanno fatto fino in fondo e quindi l'emozione più bella e veicolare la storia di chi solitamente non viene ascoltato per condividerla confrontarci e capire anche che a volte sono le situazioni non c'è un buono o un cattivo è tutto dentro di noi fondamentalmente è così a volte noi vogliamo dividerlo questo mondo in buoni e cattivi e quello è il grave errore vogliamo sempre tendere a tagliare a togliere ad arraffare come dovessimo sottrarre qualcosa e invece secondo me da questa esperienza proprio l'idea dell'inglobare dell'essere uno di essere un tutt'uno di essere un tutt'uno nel perdono nell'ascolto quanta superficialità a volte quante volte abbiamo l'altro lo ascoltiamo ma siamo già pronti a dare una risposta preconfezionata e invece accettare di ascoltare una storia come ci viene donata senza il giudizio già questo in qualche modo ci guarisce permette un cambiamento una crescita guarda Ale posso dirti una cosa così magari cito anche Raffaele e Bruno che in questo momento citiamo così si sente un attimo preso diciamo così allora io ti voglio dire una cosa io quando ho iniziato insomma ad entrare in questo mondo c'è stata una frase che Raffaele nei suoi laboratori ripete molto spesso e cioè che nascere un caso no io questa frase me la sono portata dietro ogni volta che parlo di quello che faccio con Federica Salerno e mi ritorna questa frase perché non c'è cosa più vera e per me veramente come devo dire è ciò che mi motiva è ciò che mi fa pensare e mi fa dire ok se nascere non è un caso e allora è giusto farlo perché magari al posto suo ci potevo essere io grazie Raffaele grazie 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 Raffaele sì no anche io anche io devo in modo totale a Raffaele diciamo il mio avvicinamento a questo a questo mondo a questo tipo di esperienze che sono delle esperienze completamente altre che poi non si risolvono soltanto nelle carcere insomma le carceri per quanto riguarda gli ultimi saranno è una è stata la prima declinazione scelta per avere a che fare appunto con gli ultimi che saranno ma è una questione di atteggiamento appunto l'atteggiamento per cui in modo tra l'altro del tutto laico siamo tutti fratelli siamo tutti esposti al alla condizione è una questione è un approccio proprio antropologico è un approccio siamo quello che è il nostro contesto e allora l'operazione che stiamo cercando di fare l'operazione diciamo anche di raccogliere queste scintille è proprio il discorso sta proprio nel discorso di intervenire sul contesto allora nel momento in cui si parla di contesto carcere cosa 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 può cambiarlo cosa può renderlo un luogo utile sicuramente la frase che dice raffaele che ricordo anch'io che nascere è un caso diciamo è abbastanza identificabile come uno dei faretti che che illumina la la stradina che ci stiamo che ci stiamo segnando volete aggiungere qualche cosa perché ho una sorpresa in coda sì posso soltanto posso soltanto dire che speriamo che presto il libro sarà pubblicato e che mi auguro davvero che possa aiutare tantissime 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 donne tantissime persone ad avvicinarsi ad una realtà che sembra così lontano da noi ma che in realtà non lo è questo vorrei proprio che arrivasse al cuore di tutti grazie assolutamente stiamo parlando della porta che sta nello stesso nostro pianerottolo è proprio è proprio la porta a fianco e hai perfettamente ragione nel dire che ce ne dobbiamo rendere molto più conto un'altra cosa che noi diciamo spesso è che un grande lavoro va fatto noi stiamo lavorando dentro perché si senta molto fuori un grande lavoro va fatto fuori perché se se molta più gente fosse avesse gli strumenti avesse proprio il modo di vedere di avere a che fare con le cose con cui noi abbiamo a che fare nel momento in cui lavoriamo in certi contesti sicuramente sarebbe un po più difficile fare quel discorso che dicevi prima tu Stefania di buono cattivo di separazione sarebbe molto più difficile umanamente farlo Ale però ora qui apri tutto un mondo cioè qua apri proprio tutto un altro eh no vabbè ma io mi stavo a salutare ma tanto un'altra puntata apriamolo è bella la sensibilizzazione è un altro mondo che potremmo aprire anche perché a mio avviso dovremmo proprio cambiare lo sguardo lo sguardo dovrebbe essere quello compassionevole invece istintivamente c'è sempre il giudizio io sono innocente non è il buonismo perché già molti mi stanno dicendo ah ma questo titolo e dico vabbè quando leggerete il libro comprenderete ma che in realtà molto spesso siamo figli siamo vittime e diventiamo carnefici nel contempo perché se noi impariamo lo schema maladattivo sarà quello che utilizzeremo nelle nostre relazioni quindi richiamarci al risveglio alla consapevolezza è proprio quello quando tu dici lavoriamo dentro per farci sentire fuori è un richiamo alla consapevolezza perché un uomo risvegliato non può che non essere compassionevole con i suoi fratelli perché prima di tutto noi dobbiamo scegliere la vita e dobbiamo anche imparare ad essere delicati con chi abbiamo di fronte perché è una grande opportunità di crescita e pensare che noi sappiamo la verità questo è un grande peccato di presunzione e invece anche l'altro sta combattendo la sua battaglia che si chiama vita, che si chiama esistenza e quindi uno sguardo nuovo partendo dal di dentro che possa realmente diventare scintilla come la vostra rubrica scintilla che porti davvero a scongelare i cuori ecco io vorrei un Natale nuovo vorrei un Natale dove questo anno ci ha portato delle riflessioni grandissime abbiamo tanto da imparare è un anno di opportunità stiamo sperimentando anche noi un carcere diverso vi voglio bene questo discorso che fai tu è esattamente qui chiudo esattamente il discorso sul non dobbiamo credere di avere la verità dobbiamo ascoltare dobbiamo permettere veramente la libertà a partire dalla liberazione dal nostro proprio giudizio è proprio il motivo per cui noi all'epoca pensammo al nome gli ultimi saranno senza dire che cosa è meraviglioso infatti con Raffaele ne parlammo e mi è piaciuto tanto questo titolo e ritengo perché già dire dare qualcosa dire qualcosa sugli ultimi sembra che già è come se avessimo poi una predisposizione se avessimo già la morale pronta sì ma non che non è così che non è mai così è vero grazie allora siamo io vi saluto tutti quanti ringrazio Stefania Guarracino ringrazio le nostre gemelle Kessler Federica e Francesca Palo grazie a voi e un saluto all'ascoltatore che è qui sotto forma di R e B ma c'è sempre osserva su di noi lanciamo un videomessaggio lo presento brevemente di Domenico Morabito Domenico Morabito è un'altra persona che si sta occupando di laboratori all'interno delle carceri ad oggi sta lavorando a Regina Celi proprio in questo momento in realtà sta lavorando a Regina Celi sul laboratorio che si chiama lo spasimo incatenato ed è un laboratorio di pratiche filosofiche lui attraverso la filosofia e la pratica filosofica diciamo lavora con le persone ne abbiamo parlato più volte ci siamo confrontati più volte prima che proprio questo progetto partisse in realtà sono le sue premesse e le sue conclusioni sono estremamente concordi con quello che di cui abbiamo parlato finora con quella che è la nostra attività ma il suo mezzo è un mezzo diverso vi saluto a tutti quanti la parola a Domenico Morabito ci vediamo alla prossima puntata di Scintille grazie ciao buonasera ringrazio calorosamente Raffaele e Alessandro e gli ultimi saranno per questa opportunità di svolgere questo cammino di pratiche filosofiche nel carcere di Regina Sè Celi siamo a Roma siamo al quarto incontro io sono Domenico Morabito esperto in pratiche filosofiche da anni realizzo questi percorsi nelle carceri e anche fuori in altri contesti e niente questo cammino di pratiche filosofiche si chiama lo spasimo incatenato l'ho voluto chiamare così riprendendo un passaggio da da un libro bellissimo di Dostoevsky Memoria di una casa morte che è il diario racconto della sua detenzione in Siberia dopo aver evitato all'ultimo la fucilazione in cui lui dice che la condizione del detenuto alla fine non è una condizione in cui prevalga la ragione prevale qualcosa che non è ragione è appunto uno spasimo ma lo spasimo è un modo del cuore e noi siamo fatti di emozioni e di ragioni noi siamo sempre anche con la ragione in una situazione affettiva in una tonalità emotiva la pratica filosofica tende anche a recuperare questa unità di ragione ed emozione il fondatore così viene definito delle pratiche filosofiche nel novecento è un certo Hakenbach un tedesco e lui sintetizzava le pratiche filosofiche con questa frase che a me sembra molto pertinente e puntuale non si tratta più di vivere come penso ma si tratta di pensare come vivo tutti noi desideriamo nella libertà di vivere come pensiamo come vogliamo secondo il nostro assetto di valori secondo i nostri desideri obiettivi e finalità il filosofo è colui che invece si interroga su come vive in che rapporto di intimità sto con la mia vita che cosa ne faccio della mia vita qual è il desiderio che mi spinge qual è l'obiettivo che voglio raggiungere quali sono le motivazioni che mi hanno spinto ad agire no in che relazione sto con gli altri e col mondo queste sono tutte le domande filosofiche che non sono quindi come solitamente si pensa la filosofia astrazioni teorie sospese tra le nuvole ma sono quelle domande che noi evitiamo spesso di porci perché indaffarati dalla vita dalla vita corrente dalla vita di tutti i giorni no non ci fermiamo mai in questo processo di accelerazione che porta tutti insomma a ignorare le domande fondamentali della della propria vita in questo senso le pratiche filosofiche si richiamano alla filosofia antica dove il filosofo non era uno che si metteva lì a scrivere testi più che altro era un ricercatore di verità uno che voleva vivere filosoficamente cioè vivere bene una testimonianza su di oggi nel cinico dice che a un tale che gli diceva gli chiedeva gli diceva non sono fatto per la filosofia pare che lui rispondesse perché vivi se non ti curi di vivere bene questa è la pratica filosofica è una comunità di dialogo in gruppo c'è un circolo la community circle dei partecipanti che sono dialoganti non è un setting psicologico non ci sono interpretazioni riconducibili a categorie o a classificazioni psicologiche tanto meno ovviamente psichiatriche o di patologia non si interpreta ma è diciamo la comunità stessa che fa dei pensieri che emergono materia del proprio camminare del proprio cammino il cerchio è segno di equidistanza il cerchio è segno di rispetto il cerchio è segno di pagatezza e di riservatezza anche che cosa si fa in questi incontri beh si usano tante possibilità una per esempio è il dialogo socratico cioè ciascuno partecipa incrociando il tema proposto nella propria vita cioè facendo emergere un episodio della propria vita che diventa emblematico e da cui si cerca di trarre il senso il significato di quell'episodio non necessariamente l'episodio della propria vita perché anche nell'ordinario come diversi filosofi dicono nel nostro ordinario quotidiano c'è tanto di filosofico c'è tanto del nostro della nostra vita del nostro attribuire valore della nostra scala di valori del nostro giudizio quindi sulle cose cosa è giusto fare cosa non è giusto fare cosa è buono e cosa diciamo è dannoso per la nostra vita un altro incontro può essere il gioco filosofico cioè si incrocia la filosofia con il giocare con questo aspetto ludico che abbassa un po' le difese ma costituisce spesso un momento autoesplorativo come abbiamo fatto oggi pomeriggio per esempio sulle risorse personali da cui sono usciti interrogativi importanti gravidi di ulteriori pensieri per esempio la risorsa come elemento del carattere che sempre abbiamo o come scaturente dal contesto che io vivo e nel carcere in particolare la risorsa che mi costringe no alla la vita del carcere che mi costringe a certe risorse che sono la pazienza lo spirito di sacrificio la sopportazione la tolleranza dell'altro per il regime appunto costrittivo che vivo è una risorsa vera o è una risorsa indotta cioè io la svilupperei oppure solo quel contesto che me la fa sviluppare e assume connotazioni positive o connotazioni meramente negative come per esempio loro i dialoganti hanno tirato fuori la tolleranza cos'è è solo un tollerare l'altro perché non mi è possibile sfuggirgli come può capitare fuori che prendo e me ne vado oppure la tolleranza assume più il carattere dell'ospitalità cioè dell'empatia del rendermi conto che l'altro vive esattamente la stessa condizione privativa che vivo io queste cose sono uscite in maniera potente insomma nell'incontro un altro momento l'utilizzo del mito per esempio il mito è quel racconto il mito greco è il racconto che i greci usavano nel momento in cui appariva qualcosa di inspiegabile come sono le domande filosofiche allora utilizziamo il mito per entrarci dentro e tirar fuori pensieri ed emozioni che possono essere come dire una scoperta di sé una scoperta dell'altro e un potenziamento chiudo dicendo recuperando una cosa che è uscita da un incontro pensare questi incontri di pratiche filosofiche come distrazione ora immediatamente se noi sentiamo la parola distrazione ravvisiamo in essa un carattere negativo il distratto è colui che non si impegna a scuola che pensa ad altro che appunto non si concentra sulle cose ecco pensare le pratiche filosofiche come distrazione distrazione nel senso di poter distanziarsi da quel vissuto pesantissimo che io vivo nel carcere e allargare la mente e il cuore insieme agli altri ancora di nuovo grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento